Buongiorno a tutti, ben arrivati a Roma e ben trovati per chi arriva dall'Italia. È un piacere essere qui tutti insieme per questo percorso che ci è stato proposto dal gruppo di lavoro per la dichiarazione di Casablanca che il forum ha accolto fin dal primo momento a braccia aperte. Penso che questa sia un'esperienza importante che il forum che rappresenta la più grande rete di rappresentanza delle famiglie in Italia, raggruppa circa 400 associazioni, si parla di circa 4 milioni di famiglie e è in connessione anche a livello europeo, alla FAFSE, vedo l'amico Vincenzo Bassi qui in sala che tanto si è dato da fare anche per questo incontro, prende sul serio questo approfondimento, questo percorso che viene proposto e che già anche il nostro paese sta iniziando a percorrere e lo fa perché la famiglia intercetta tanti fasi di vita, tante esperienze, tanti momenti lungo un ciclo di esperienze che sono esistenziali, fondanti e che attraversano sia i campi organizzativi che economici che relazionali. Certo è che il momento nativo, il momento della custodia della vita, la tutela della fragilità, la solidarietà, la gratuità, l'accompagnamento nei percorsi di amore sono degli elementi assolutamente centrali per noi. A questo punto quindi il tema della maternità sorrogata diventa centrale per la tutela dei più fragili, dei minori, scusate dei bambini ancora che devono nascere, delle madri biologiche e in questo senso il forum non può osservarla in modo neutro, diventa un tema centrale e siamo ben lieti di essere a fianco in questo percorso con persone impegnate, con persone competenti, con un desiderio di raccogliere unità e consenso, una questione fondante per la nostra civiltà dell'oggi e del domani. Quindi auguro un buon lavoro a tutti quanti, ringrazio appunto per la scelta di lavorare qui su Roma e certamente anche noi con le nostre associazioni faremo la nostra parte. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie a tutti.